Esimio signor signorini, mia madre l'adora, questo video è per lei su Daliassi, questa è la zona trucco maquillage molto soberria, scarna, di Guia Ielo, all'anagrafe Guglielmina Francesca Maria Ielo di Lendini, titolo nobiliare, proseguiamo! Sto completando il trucco, dico ma non si può fare questo, non si può cambiare la sigla e si ci mette no GFVIP ma si mette GFVNP, GF vorrei ma non posso che fa parte della mia categoria. Sì col trucco mi sento più a mio agio per poterti fare un discorso serio, partecipare al grande fratello VIP può essere una risorsa che ti può cambiare la vita, te la può migliorare, te la può rendere splendida, sì. Se tu sei una VIP, una VIPina, una piccola VIP, una VIPpozza va, qualora invece tu fossi una grande VIP, importantissima, una VIPpona, una famosissima, te la può costare, te la può deteriorare, ti può rovinare la plomb. Proseguendo col discorso serio, vedi questa inquadratura, eccolo là, ti consiglio questo rito, questa preghiera. San Giorgio Cavaleri, tu sia cavallo sugli appede, e per l'unomo di Maria manda tutta la tua compagnia, io una sugna e c'endo io devo andare, e sanno a fare male a mia e di stisse a tornare, ma è meglio che non l'hanno a fare. Amen, amene facoltativo.